Salvo sorprese la caccia ai cervi. Si inizierà dal 14 ottobre il rinvio in commissione del voto alla mozione del centro-sinistra. In pratica da e là l'abbattimento di 469 esemplari. Unica speranza rimane il Tarre. Il 9 ottobre ci sarà l'udienza per discutere del ricorso presentato dagli ambientalisti. In sostanza il tempo è scaduto. Si sono confrontati ieri in audizioni diversi mondi ma alla fine come si spiegava niente voto per la mozione che chiedeva la revoca della delibera di giunta. E così la maggioranza di centrodestra continua dunque sulla linea già tracciata. Questo progetto è stato mandato all'istituto superiore della protezione ambientale all'ISPRA che ha dato il parere favorevole e sulla scorta di questo abbiamo portato in approvazione della delibera di giunta. Sentendo quelle che sono le difficoltà che ci sono in alcuni luoghi della nostra regione soprattutto nella provincia dell'Aquila dove gli incidenti stradari, i danni all'agricoltura e anche lo squilibrio ecosistemico sta generando dei problemi proprio dovuti al cervo. Quindi è un percorso che viene da lontano frutto di valutazioni tecnico-scientifiche dove poi noi abbiamo fatto il resto. Ma non è un'azione che nasce pro o contro qualcuno, è un'azione che nasce per l'agricoltura, per ridurre gli incidenti stradari, è un'azione per l'ambiente e per la gestione del sistema ambientale ecosistemico abruzzese. Il centro-sinistra come pure diverse associazioni hanno pure provato a proporre soluzioni alternative all'abbattimento come ad esempio ha fatto il consigliere dem Pierpaolo Petrucci che ha proposto di trasferire i cervi in altro sito. Ma per il consigliere dem la mozione non è stata votata semplicemente perché non c'erano i numeri del centro-destra. La battaglia però proseguirà e il consigliere dice se dovesse essere accolto il ricorso il 9 ottobre l'assessore imprudente dovrebbe dimettersi. Ieri non si è andato al voto sulla mozione perché la destra non aveva i numeri quindi il presidente si è dovuto inventare che aveva bisogno di altre audizioni perché altrimenti la mozione nostra sarebbe passata. Noi proseguiamo con una battaglia che secondo noi è vitale per l'Abruzzo perché questa ostinazione della giunta Marsiglio su questa dinamica dell'uccisione della mattanza di 500 cervi rischia di ledere gravemente l'immagine dell'Abruzzo in Italia. Il problema c'è, se c'è ci si lavora per risolverlo, cosa che non ha mai fatto l'assessore imprudente che riunisce su di sé le deleghe all'agricoltura, la delega all'ambiente, la delega dei parchi e la delega alla caccia. Un cervo di 200 chili produce la bellezza, vale a un valore di mercato di 12 mila euro. Se lo moltiplichiamo per 500 cervi capite che c'è un business di 6 milioni di euro che non rimane all'Abruzzo ma viene portato all'esterno perché i cacciatori vengono da fuori. Noi già annunciamo che qualora il TAR dovesse dare ragione alle associazioni che hanno fatto questo ricorso, l'assessore imprudente, siccome sarebbe il secondo frontale che prende sulle dinamiche ambientali, il primo è stato quello del taglio del parco Sirente-Vedino, deve assumersi responsabilità e riconsegnare le deleghe.